Siamo qui con Alberini ed Acquati dei Boys, grandissima prestazione oggi, 5-1 contro la capolista Pobinzago, dato un chiaro segnale al campionato battendo in questo modo la prima in classifica e ora puntate dritti verso quello che è il primo posto Lasciate la parola Finora siamo arrivati fino qua, vogliamo andare avanti così fino in fondo, oggi è stata una partita importante, dobbiamo essere un po' più veraci, però dobbiamo arrivare fino alla fine così Insomma avete reagito allo svantaggio iniziale con una grande reazione di forza, con il gioco, con i gol di Alberini che è già 4-17, insomma è stata proprio una vera prova di forza questa qui perché comunque arrivavano loro che erano imbattuti e voi nonostante la difficoltà iniziale avete reagito con grande vehemenza Sì, bisogna mettere sempre cuore, forza, intelligenza nel giocare, andare sotto, riuscire a reagire e portare a casa la partita. Come ho detto l'altra volta, bisogna vincere, pareggiare, lasciamo la viaggio, perdere Una domanda sui tuoi gol, ne hai già fatti 17, insomma a queste medie arrivi a 50-60 riuscirai a tenere queste medie fino a fine stagione? Io spero di sì, spero di sì Ce l'auguriamo tutti Tocchiamoci Ok, grazie ragazzi e buon proseguimento di stagione Buona serata, grazie Grazie